Quando è cominciato a piovere, noi eravamo un po' bloccati con i bimbi, la mattina è cominciato a piovere forte, si è allagati un po' più tutto, l'acqua arrivava fino alla cintura più o meno, non riuscivamo a chiedere una mano a nessuno perché abbiamo provato a chiamare polsia, carabinieri, vigili del fuoco, e nessuno ci diceva che non poteva venire, alla fine il mio cugino e un altro ragazzo sono corsi a Molasana dalla PAM, ci hanno messo un'ora e mezza a soplicarli che venissero qui a darci una mano e alla fine la sera sono arrivati dopo un altro che erano fuori servizio a darci una mano, hanno preso prima tutti i bimbi e poi sono andati per noi adulti a portarci lì. Il prefetto è venuto qua e nel 2011 aveva detto che era inagibile questo campo qui, ma oggi siamo ancora qua, ogni volta che piove arrivano mettono un cartello con alerta 1 e poi niente. Sono più bimbi che adulti, 45 bambini che sono qui e se non chiamavano noi all'ambulanza non saremmo forse neanche qua, non avremmo potuto sapere cosa sarebbe successo ai bimbi che noi adulti. Poi siamo andati al municipio, abbiamo fatto la notte lì con i bimbi per terra, abbiamo dormito e siamo arrangiati come abbiamo potuto. Dopo dal municipio siamo andati a andare alla scuola Ezio Lucarno in via Lodi. Ma perché non andate a casa in campo per vedere dove abbiamo abitato 20 anni? Non puoi giudicare una persona senza conoscerla, bisogna prima conoscere una persona e poi giudicarla. Siamo qui a meno anche di 24 ore. Nei momenti difficili c'è gente che se la prende con noi, non c'è bisogno di fare queste cose qua. Pensano che siamo animali e vogliono mandarci via, hanno fatto che abbiamo rotto la scuola, che abbiamo fatto casino, ma c'erano la comune, ieri hanno visto che è tutto ordine e loro fanno tutto questo casino, hanno chiamato, 30 pattuglie hanno chiamato. Perché pensano che siamo animali, che non siamo umani come loro. Per adesso ci sta aiutando la pubblica assistenza, la GAU, la Croce Rossa e le assistenze sociali. I scout qua presenti stanno dando una mano con i bimbi a farli giocare un po', farli passare un po' di tempo ai bimbi. Anche i bimbi hanno paura che stanno guardando le forze dell'ordine con i guanti eccetera. Non siamo dei animali, anche noi siamo persone civili come tutti gli altri. Qua nella scuola, questa è la palestra, stiamo dormendo qui. Ditemi che motivo avremo per creare dei problemi dove ci stanno ospitando le persone qui. Ci sono anche altre persone che hanno bisogno e sappiamo, noi siamo pronti a dare una mano anche alle famiglie che hanno bisogno di pulire di nuovo questa città, di farla tornare come era. Però poi non vogliamo più tornare al campo a vivere, vogliamo una casa vera come si deve perché sono 30 anni che combattiamo e ogni volta dobbiamo fuggire, scappare via e non sapere dove andare eccetera. Per fortuna ancora non ci è scappato nessun morto, succede qualcosa e speriamo di no, allora poi diranno va bene adesso vi daremo le case, facciamo prima, cioè prima che accada questa cosa qui.